Hello guys, Renner here! Benvenuti in questo nuovo video qui sul mio canale, siamo con Sbucci su Minecraft! Ciao a tutti ragazzi! Allora, ci eravamo lasciati nel primo episodio sul suo canale, quindi mi raccomando signori, se non l'avete visto andatelo a vedere, c'è il link qua sotto, sia per andarvi a iscrivere che proprio direttamente al video. E abbiamo iniziato questa serie insieme in vanilla, dove appunto dobbiamo fare il semplice game in survival. Allora, dobbiamo uscire da questa caverna in cui abbiamo preso un po' di cose e dopo vi facciamo vedere che cosa abbiamo racconto. Per avere un chiarimento ragazzi, siamo andati diretti nella miniera perché siamo stati su un'isola piccola. Ma proprio piccola piccola, cioè voi non immaginate grande quanto... E quindi dobbiamo raccogliere materiali per andarcene via in barchetta. Esattamente, cioè è più o meno grande quanto San Marino. Più piccola. È anche più piccola volendo. Dai, allora saliamo... Era di qua la strada, sbucci? Non me lo ricordo nemmeno per il vero. Allora, forse era di qua, non vorrei dire cavolate. Tento al buco? Sì, 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 era di qua, era di qua. E non uso l'acqua. Esatto. Prendiamo pure questa crafting table che torna utile. Fuori è notte e piove. Come è notte e piove? No, 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 piove solamente. Dai, dai, buono, buono, è giorno. Dì, guardavi quella bella. Dove? Perché funziona così qua? Che è? Cos'è? Dove stai? Che, 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 che... Ah, è perché c'è il mare qui, viè. Beh, buttati. No, ma perché non, non, non entra l'acqua? Ah, è perché Minecraft capirai che col tempo si chiama bug. Siamo spawnati su quest'isolotto, ve lo faccio vedere perché appunto, se non avete visto il video di Bucci... Prima c'erano degli alberi, ragazzi. Prima c'erano degli alberi e noi abbiamo abbattuto tutto, siamo contro... Se no era peggio di Skyblock, se non c'erano alberi. Esatto. Allora, abbiamo fatto, abbiamo fatto la nostra crafting table. Bucci, sai come si fa una barca, vero? O te la faccio io? Che, che... Te la faccio io. Ok, aspetta che te la sto... Te l'ho buttato addosso. Ti ho buttato addosso una barca. Voglio provare a farla solo con l'inventivo, no? Non c'erano a funzionare di solo. Esatto. Ok. Avrei azzeccato. Avrei si azzeccato, perfetto. Allora, adesso la cosa che dobbiamo scegliere è dove e in che direzione andiamo. Allora, ragazzi. Calcolando che sta piovendo. Che il nord e il sud non so dove cavolo siano. E che quindi questa erba è bagnata, dobbiamo andare da questa parte sicuramente. Ma guarda, io te l'appoggio e andiamo. Tasto destro e go. No, no, basta. No, mi sei venuto addosso, Sbucci, ma hai rotto la bacchetta. E poi lo vedi nel video. C'è già una montagna, ragazzi. Aspetta che devo andare a farmi un'altra barca. Tu vai sempre dritto, mi raccomando. Io sto sveggando con la barca. Bravo, bravo. Fai il ricco, big money. Bravo, bravo. Con lo IA. Ma ti si è rotto anche a te? No, ok. No. Ok, arrivo, arrivo. Eh, ma è presente tipo il Monte Olimpo di Hercules? Sembra più o meno... È un pochino. È un'altra isola. Io vorrei mantenere avanti prima di andare a vedere la barca. Secondo me no, però comunque andiamo avanti perché sembra interessante. Il fatto è che tutto... C'è anche la neve. È tutto montuoso, insomma, non è molto comodo per costruire. Siamo per muoversi, perché altro... Eh sì. Beh, continuiamo a circunnavigare le isole. Eh no, è proprio un'isola. Eh, Buccia, allora andiamo di qua. Andiamo... Aspetta, 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 aspetta. Girati, girati. Bravo, andiamo di qua. Andiamo dritto. Ok, vedo un mondo. Eh, vedo, vedo della sabbia, la vedi? Cane da zucchero. Anche io, anche io. Libri per tutti. Libri per tutti. Eh, oh, vedo una foresta! Vedo una foresta! Ok. Terra! Oh, oh, è un'isola più grande. No dai, che cazzo? Un'altra no, eh. Dei cavalli! Due cavalli! Io vedo delle mucche. Ciao, mucca! Non ti rompere, non ti rompere, non ti rompere. Oh, sono riuscito a non rompere la barchetta. Però se n'è andata. Se n'è stava andata. Io l'ho voluta rompere, invece. Secondo te questa è un'altra isola oppure... Ci sono... Ci sono pure le pecore! Aspetta, aspetta, uccido le pecore. Ciao, pecore. Letti per noi. Eh, letti, letti. Scherzo. I cavalli neri e bianchi, ragazzi. Non so se... Dove rari, ma sono neri e bianchi. Anche delle mucche. Mi stavo chiedendo perché le pecore morissero dopo sette colpi di spada. E perché non stavo usando una spada, ovviamente. Stavo usando lo stick. Lo stick o lo stick? Eh... Nel senso di bistecca. No, no, lo stick è proprio lo stick, il bastone. Che suona malissimo, eh, però... Il cavallo era della carne? Ma no, no, no. C'è un pony? No, no, non li uccide, non li uccide i cavalli che sono fini. Sei imbizzarrito un cavallo. Eh, ma sai che anche questa è un'altra isola? Mi sa. Non ci voglio credere. Che senso ha mettere dei cavalli su un'isola? No, aspetta, aspetta. No, no, vieni, Bucci. Aspetta, prima che ci perdiamo. Aspetta, dove stai? Fermo le... Oh, lo vedo, vedo. Vedo mucche che muoiono, quindi sei tu, per forza. Esatto. Vedi un barbecue. Barbecue che cammina al Bucci. Ma sta pioggia che abbiamo deciso. Cioè, il tempo uggioso è brutto, insomma. Vogliamo il sole, primavera, swag, took life. Perché c'era il setting di difficoltà. Facile, difficile, tempo bastardo. Eh, tempo bastardo, giusto. Eh, però a questo punto io voglio gli uragani, voglio la neve. E una farm di mucche tutta per me. Guarda, guarda quante sono. Sono ovunque. Vai, Bucci, uccidi, vai, divertiti. Eh, mi hai dato un colpo di spada. Eh, lo so che ti piacciono queste cose un po' hard con le spade. Sì, sì. Eh, incrociamo le spade, incrociamo i flussi. Sì, sì, va bene. Un po' come gli avatar. Eh, sì. C'è la spiagliata, sì, ma io voglio la cannottiera. Non importa se gli avatar. Dovete sapere che se non avete mai visto Bucci, Bucci è proprio a forma di cannottiera. Esatto. Oh, qua nevica. Ti piace la neve? Andiamo nella neve. Vai, almeno ci deve andare al cazzo della pioggia. Esatto. E là c'è la giungla. Là c'è la giungla. Facciamo, oh, facciamo, facciamo la casa. Facciamo la casa. Eh, esatto. Facciamo. Non so, voglio rimanere giù. Sono pecore? Fa vedere? Aspetta, aspetta. Quella mi sembra una pecora. Aspetta, aspetta. No, sono blocchi di sabbia. C'è alcun deserto. Eh, ma io vedo due pecore qui, Tug Life. Anzi, le vedo quattro. Vieni, vieni. C'è un ragno, c'è un ragno. Dove sei? Eh, a destra, no. Sono verso la giungla. Non vedo assolutamente. C'è anche due zombie qua. E io mi servo. Sono stati? Guarda, ho messo, ho messo della luce a terra perché c'è... Ok, ok. Ti ho visto. Così non puoi non trovare. Allora, io direi, guarda, qui c'è un creeper. Dove sto io? Guarda, là sotto. Da sotto c'è un creeper. Va bene? Ok. Adesso facciamo tipo l'assalto stile Assassin's Creed dall'alto. Ok. Scendiamo, scendiamo, tipo, scendiamo in un'impicchiata, Bucci. E... E poi andiamo... C'è un servizio? È esatto. Ci uccidiamo brutto sto creeper. Muori, muori, muori. Ok. Il problema è che risponde sull'isola. È vero! Oh, cazzo. Ma sai da cosa sono morto? Non dal creeper. Sono morto dalla caduta che mi ha fatto fare il creeper. Mi sa che questo è un bioma... Dungeon? No, no, mi sa che questo è un bioma anche abbastanza raro, sai? Cioè? Eh, non mi ricordo che bioma è, ce lo diranno nei commenti. Quindi mi raccomando, qua sotto, raga, forte coi commenti. Diteci questo che bioma è. Allora, io direi, sfruttiamo, guarda. Sfruttiamo qui. In generale, sfruttiamo qui come il bioma che è in mezzo a neve. No, 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 no. Eh, no. Sfruttiamo questo posto qua per il momento, tipo qua dentro. Adesso scaviamo. E ci facciamo, tipo, una piccola casetta dentro la montagna. Tipo rifugio antatomico. Ma sentiamo, sentiamo tipo spawn. Eh, ci dobbiamo fare, ci facciamo i letti. Non lo spawn. Come dire, segniamoci le coordinate. Eh, adesso facciamo tutto. Eh, io intanto, cioè, c'è il coal dentro casa. Vabbè, eh, prendi il coal. Cioè, che fai? Se non prendi il coal non c'è nessuno. L'altro giorno mi hanno messo nei commenti una frase bellissima. Ah, ah. Dicendo, cioè, la frase in sé era, tipo, un aiuto, un consiglio. Sì. E a fine ci ha scritto, eh, continua così, ci piaci, virgola, un abbraccio. Cheat Gianni Morandi. Gianni Morandi. Ma non so se tu hai visto, aspetta, aspetta, non so se hai visto la sua pagina Facebook. Sì. Ma è troppo, io muoio dalle risate. E' un dio, quello, è dio. E' davvero dio. Allora, io faccio un attimino una cesta. Mh, però posso mettere un po' di maia latte. Esatto, perché se no... Io faccio un soffitto più alto perché qui mi sento un po' chiuso. Vai, vai, vai. Se non sbaglio. Sì, sì, vai. Io intanto adesso faccio una porta, prendi tutto, perché se no arrivano gli stronzi, entrano, capito, ti trovi il creeper in casa, ti posso fare una sorpresa, boom. E se è peggio un creeper o il postino che ti suona la mattina? No, no, è peggio il creeper, perché è sempre... Cioè, capì, lui ha quel... ha quel suo modo di fare. Quindi il peggio c'è da un creeper postino. Esatto, brutto. Il creeper postino non ci scampo. Ti insegno una cosa, guarda, Bucci. Chiudi quella cesta. Aspetta, lo sto rimpiendo di cavolato. Vai, 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 vai. Che è tutto. Vai, vai, vai. Ah, che mi sento più lunghe. Ti faccio vedere. Sì. Allora, se tu metti una cesta, sopra un'altra cesta così, la cesta sotto si apre lo stesso. Sì, lo sto. Boom, bellissimo. E quindi mettiamola così e siamo tranquilli. Allora, il problema è che qua, ecco, vediamo, finisce la montagna. Quindi dobbiamo tipo cambiare tutto con legno. Però vabbè, legno adesso lo prendiamo semmai nel prossimo episodio. Ah, vuoi usare questo chiaro? No, per ora. Eh beh, per ora metti questo, poi semmai usiamo quello un po' più scuro. Devo fare una cosa del genere, volevo fare. Perché possiamo, vedi, abbiamo sti alberoni tipo giganti davanti casa che sembra... E che l'albero di legno... Ah, ok, questi lì, ok, le verce, sì. Questo è il mio rinno preferito, è quello di base. È anche, secondo me, il più bello, quello lì. Però, insomma, adesso mi sto addirittura... Troppo senza cazzi. Esatto, mi sto facendo un'accetta in ferro. È una pala in ferro. È proprio wow. Tug life. È proprio sbattere... Cioè, posso fare proprio akab. Sì, akab. Troppo akab. Mi serve del legno... Devi venire a mettere un blocco qui di legno chiaro, bro. Infatti io metto... Ok. Ok. Metto le torce. Oh, è già una tastoria. Esatto. Ah, io adesso prendo le... Prendo le... Le coordinate. Facciamo un bello screen delle coordinate. Bona. Fatto. Esatto. Ok. Bello, bello, bello. Buono. Adesso ci facciamo i letti. Ti faccio il letto, eh, Bucci. Non preoccuparti. Anche mia mamma mi rifà sempre il letto. Eh, beh, hai visto. Hai trovato che te lo rifà anche su Minecraft. Allora, aspetta. Mettiamo qui. Mettiamo i letti. Uno qui. Facciamo uno qui. E uno qui. Separati. Separati. Che se si ha mai, eh. E mettiamo un comodino in mezzo, vai. Metti anche un comodino in mezzo. Ci mettiamo, guarda, anche la candelina sopra, così, guarda. Oh, siamo a posto. Poi la spegni con la forza del pensiero quando vai a letto. E la forza del pensiero è un pugno, perché... Esatto, esatto. Dobbiamo uccidere questo stronzo. Allora, io ho una mezza idea. Adesso, guarda, facciamo tipo tog life, guarda, eh. Come dobbiamo usciamo e... No, 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 fermo. Guarda, ho spaccato un blocco. Adesso lo colpiamo così, a distanza. Tipo wifi. Finché non muore. Vieni qui. Oh, 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 me lo so ri... Basta. Hai trovato davanti. Si è fatto il giro. Dai, però. E avevamo fatto tutta l'entrata. Poi, le pesate da recattate il legno. Ho solo un pezzo. Solo un pezzo. Solo un pezzo. L'altro mi sa che... Mi sa che tutto il resto è esploso. Bastard. Ripra di merda. E una cosa... Ah, ma questi... Questi alberi sono anche loro, sono un po' strani. Eh, sì, vedi, sono più grandi. No, hanno tipo una durazione un po' diversa. Vedi? Ah, è il Dark Wood questo, è bello. Questo è molto bello. A me piace un sacco. Oddio, è vero. È bellissimo. Signori, e quindi l'episodio di oggi finisce qua. Qua sta arrivando anche la notte. Mi raccomando, passate sul canale di Bucci che trovate qua sotto in descrizione. Se vi siete persi il primo episodio, lo trovate sempre qua sotto. Continuate a seguirci in questa serie, ma soprattutto a suggerirci che cosa dobbiamo fare. E soprattutto diteci come si chiama questo bioma, perché io non me lo ricordo. E enjoy e credenza con voi. Vai, Bucci. Sveglia. Buonanotte a tutti. Ciao.